Oggi vediamo come si aiutano le ciglia a stare meglio. Si aiutano con prodotti come questi. Questi sono prodotti curativi delle ciglia che le rinforzano, le allungano e cercano di dargli maggiore nutrienza, sono a base di vitamine. Inoltre, oltre ad avere nutrienza e a rinforzarle, possiamo usarli come primer, quindi sotto come base, come mascara per far durare di più il mascara e nel frattempo nutrire anche le ciglia. Inoltre si possono mettere la notte, la sera, quindi dopo aver struccato il viso, deterso, lavato, pulito, possiamo metterli in modo tale che facciano l'orazione e in più la mattina appunto come primer. Vi faccio vedere questo che è doppio, ha da una parte uno scovolino così per nutrirle, metterle alla base delle ciglia, mettendo la sostanza alla base delle ciglia e poi questo che invece è il primer. Poi mettete il mascara.